Siamo con Davide Amadori, partita un po' strana, molto simile a Mangarelli la settimana scorsa. Ci sono andati sotto, ci sono riusciti a pareggiare poi ancora questo gol ad ultimo. Mi dispiace perché sia contro Alessandro che contro Papi abbiamo perso due punti importanti per l'obiettivo salvezza, però dobbiamo rincuorarci delle prestazioni che sono state ottime. Peccato perché perdere il novantesimo è sempre brutto, ci abbiamo sofferto, ci siamo stati male una settimana ad essere ricapitato. Però non possiamo fare altro che pensare a Cremona, andare a fare punti a Cremona. Con che spirito si va a Cremona? Lo spirito con cui ci siamo rialzati dopo aver perso un punto ad Alessandria. Abbiamo affrontato la settimana in modo giusto, abbiamo cercato di fare tutto quello che ha chiesto il mister anche oggi, abbiamo fatto un'altra buona prestazione, però anche oggi non siamo riusciti a raccogliere punti. Grazie.